Ieri, alle Olimpiadi di Rio, mi hanno criticato perché sono andato alle Olimpiadi di Rio, dice solo Renzi ci va, ero lì con Hollande, gli ho detto guarda ci sono solo io, te fai finta di nulla, non lo dire. Poi davanti c'era il Presidente dell'Argentina, ho fatto guarda ci sono solo io, te zitto non lo dire. Poi quando si è perso con la finale, ecco c'era accanto il Presidente dell'Ungheria, gli ho fatto zitto, ci sono solo io. C'erano tutti lì, è ovvio, è le Olimpiadi, ma al di là di quello, è al di là dell'orgoglio nazionale che uno prova non soltanto quando sente l'inno di Mammeli quando si vince, ma quando ad esempio quando abbiamo illuminato col tricolore il Cristo Redentore, la statua simbolo di Rio de Janeiro, per dare un segnale di amicizia, perché noi, perché ci sono migliaia di italiani che hanno lasciato il nostro Paese per andare in Brasile.